Terzo giorno, continuano le nostre interviste a cittadini, portavoce, simpatizzanti e non simpatizzanti, siamo con Daniele Frongia, portavoce al Comune. Daniele, come sta andando l'evento? Io direi benissimo, abbiamo assistito dei veri e propri arrembaggi all'e-stand, con dentro i portavoce, gli attivisti, fili anche di mezz'ora per parlare con noi, rappresentare i problemi, è stata una grande emozione, perché sono tre giorni che andiamo avanti così, e per il resto, nelle prossime ore, di nuovo, sarà impossibile camminare insieme. Un messaggio per chi è rimasto a casa per i prossimi eventi futuri di questo genere? Innanzitutto, chi è rimasto a casa ha ancora modo di venire qua oggi pomeriggio, quindi le aspettiamo, e se no, nei prossimi giorni noi stiamo nei nostri uffici, abbiamo il sito romano, abbiamo il Campidoglio ogni martedì pomeriggio, venite, 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 partecipate! Partecipate!